Se devo andare a vedere certe situazioni, adesso il portiere a livello tecnico lavora meno che in altre circostanze, perché? Perché si tende di più. Allora, l'allenamento del portiere, io me lo immagino, lo so, primi 20-25 minuti che entrano in campo, tutti exercici con i piedi. Dopo 20-25 minuti l'allenatore ti chiama il portiere perché gli servi per la squadra e quando si allena? Il giorno dopo la stessa cosa. Quindi c'è una situazione, c'è un momento dove il portiere purtroppo, infatti sono strutturati allo stesso modo, grossi, alti, perché questo? Poca tecnica ma grande chiusura di porta, cioè sono grossi e quindi coprono la porta bene, capito? Cioè quelli come me a 180 cm adesso neanche le consideravano.